Il nostro obiettivo elettorale è andare ben oltre il 3% e sono sicuro che saremo la sorpresa di queste elezioni, anche perché in queste ore ci sono milioni di italiani indecisi che vogliono, se vogliono, possono decidere di andare a votare e possono decidere di votare per impegno civico, io sono il ministro che ha fatto il taglio dei parlamentari, ha fatto il reddito di cittadinanza, il patto per l'export, il decreto dignità, fidatevi di me e faremo anche il decreto taglia bollette, il salario equo, il salario minimo e faremo gli interventi che servono per risollevare questo grande paese. Ministro, la saluto facendo come tutti i candidati un grande in bocca al lupo, le chiedo però in finale una battuta, si è pentito di aver detto abbiamo abolito la povertà? Guardi, quando ho fatto quella dichiarazione, lì c'era l'entusiasmo di chi aveva approvato una misura, il reddito di cittadinanza che ha dato tanta dignità a tante persone, però a differenza di tutti i miei competitor degli ultimi dieci anni e colleghi politici, io ci ho scritto un libro sulle cose che magari potevano essere fatte diversamente, qui però si discute sempre e solo del mio passato, ma non si va mai a vedere il passato di chi per esempio dieci anni fa ci stava portando al fallimento come stato, pensiamo a Berlusconi, Meloni e Salvini che stavano al governo. Io le dico con molta franchezza che sono orgoglioso delle leggi che ho fatto approvare per questo paese, questo è il punto fondamentale di un politico che deve rendicontare e deve rendere conto ai propri elettori di quello che ha fatto. Grazie, dov'è candidato? Lo chiediamo a tutti i candidati. Grazie a voi. Dov'è candidato lei? Io sono candidato in più collegi plurinominali, ovviamente Di Maio è sul simbolo come vedete in tutta Italia, su tutte le schede elettorali d'Italia, sono candidato nel collegio uninominale di Napoli, che si chiama Napoli fuori grotta ma comprende molti più quartieri e poi sono pluricandidato anche in diversi collegi della Campania, in Basilicata, in Calabria e in Sardegna. Grazie Di Maio, allora in bocca al lupo noi tra pochissimo ripeteremo.